Grazie a tutti coloro i quali mi sono stati vicini in ogni fase di questa bellissima esperienza. Iniziata cinque anni fa con la campagna elettorale di cinque anni fa, con questi cinque anni di governo della città e con questa bellissima campagna elettorale che ha portato oggi a questo splendido risultato. Vi, vi, vi! Oggi noi abbiamo la forte responsabilità del governo della città sicuramente, ma abbiamo anche la forte responsabilità di lanciare a tutti i nostri avversari un fortissimo messaggio di coesione, di solidarietà. Oggi più che mai dobbiamo sentirci tutti sulla stessa barca, siamo tutti cittadini per gli stessi. Ai miei candidati sindaci e avversari io oggi lancio un messaggio, come ho detto, di coesione, tendo la mano perché voglio la collaborazione di tutti per la buona riuscita, non del governo della città, del quale ovviamente solo noi saremo responsabili, ma per la buona riuscita della città, per la crescita, per la crescita... Il messaggio di coesione che io voglio lanciare ovviamente riguarda me, ma invito tutti voi ad avere lo stesso atteggiamento nei confronti di tutte e due le squadre dei nostri avversari. Dobbiamo unirci per il bene della città, dobbiamo sentirci tutti cittadini di Catturino.